Nel 2013, la prima visita di Papa Francesco è a Lampedusa. Circa sei anni dopo la questione dei flussi migratori è esplosa in Europa, creando enormi distanze e anche una grandissima spaccatura. Ma non è forse proprio in queste differenze, in queste allontananze, che il tema del dialogo è ancora più importante. C'è una bella immagine, una parabola, nell'interno della tradizione giudaica che può bene esprimere la ricchezza e il significato della differenza nell'identità. Questa parabola immagina come punto di riferimento il conio delle monete. Gli uomini coniano le monete tutti con uno stesso conio e le monete sono tutte uguali. Ora, dice questa tradizione, Dio, quando ha creato l'umanità, ha usato un unico conio, che è quello di Adamo, che vuol dire appunto uomo. Tutti sono uomini e donne, ma ognuno di loro è differente. Basti solo pensare alle impronte digitali. Ed è in questa luce che allora la bellezza è nella diversità, riconoscere che siamo diversi, per sguardi, per pensieri, per colore delle pelli, per esperienze, ma dall'altra parte tutti siamo figli di Adamo.